Buongiorno a tutti da Matteo Lombardi e da Radio Roma Futura.it stiamo trasmettendo le informazioni meteorologiche di Pigneto, la stazione medio del Pigneto del municipio Roma 5 oggi 5 maggio si prevede una giornata serena in cui le temperature aumenteranno ancora rispetto a ieri e oscilleranno tra i 17 e i 31 gradi centigradi. I venti non saranno particolarmente forti e ricordiamo per gli amanti dell'almanacco che il 5 maggio più freddo della storia si registrò nel 2008 in cui la temperatura segnò 8 gradi mentre il 5 maggio più caldo della storia si registrò nel 2013 in cui la temperatura segnò 30 gradi centigradi. Per quanto riguarda la luna è ancora piena con una visibilità del 99%. Anche per oggi è tutto, buona giornata e buon tutto!